Il bar delle Folies Berger è un dipinto del pittore francese Edouard Manet, olio su tela, 96 x 130 cm, creato nel biennio 1881-1882 e conservato oggi alla Court Hall Gallery di Londra. Ricordiamo che Folies Berger era in quegli anni un celebre caffè in cui si tenevano spettacoli e concerti. Situato a pochi passi da Rue de la Fayette a Parigi, era ritrovo della borghesia della città e frequentato assiduamente dallo stesso Manet, che vediamo in questa immagine. Bene, questa è l'opera che è l'ultima realizzata da Manet prima della sua morte, avvenuta l'anno successivo, quindi nel 1883. E per questo motivo viene considerata una sorta di testamento artistico dell'autore. L'opera ritrae un inserviente del bar delle Folies Berger che, dietro il bancone, attende mestamente l'ordine di un avventore. Non si tratta quindi della rappresentazione di un importante episodio storico o mitologico, ma di una semplice tranche de vie moderna. Ed è per questo che con grande dispiacere di Manet, molto malato e sofferente in quel periodo, Il quadro è accolto freddamente dall'ottuso e conservatore pubblico del Salon di Parigi, dove viene esposto appunto nel 1882. In basso a destra e a sinistra Manet colloca due nature morte. Quella a destra è composta da una fruttiera di cristallo ricolma di arance, eccola qui, Un calice con dei fiori dalle tonalità rosate e aranciate, questo, Bottiglie di champagne e di liquori, ecco queste dietro sono le champagne e qui abbiamo liquori. Nella natura morta a sinistra, come possiamo ben osservare, sono presenti invece soltanto bottiglie. In entrambe, quindi questa e questa, Manet dipinge una bottiglia di Bus Pail Ale 66, una birra inglese molto popolare in quel periodo a Parigi, contrassegnata dal tipico triangolo rosso sull'etichetta, ecco qui e qui. Con questo particolare l'artista intende inserire nel dipinto una nota di spiccato realismo, e allo stesso tempo porre l'accento sull'internazionalità del pubblico delle folie berger. Ricordiamo che Manet era uno specialista delle nature morte e amava inserirle all'interno dei propri dipinti, anche se ne esegue poche come opere indipendenti. Ecco, torniamo al dipinto intero, quindi come è chiaro, appunto, osservando il dipinto nella sua interezza, la vera protagonista del quadro è l'inserviente che si trova al di là del bancone. Sappiamo che si chiamava Suzanne e che lavorava nel locale intorno al 1880. Il quadro, infatti, è stato dipinto da Manet nel suo studio e non nel locale stesso, e l'autore avrebbe chiesto, appunto, a Suzanne di posare per lui. Il viso della ragazza è ovale, lievemente arrossato, ed è vestita in modo così ricercato da poter essere quasi scambiata per una dama del bel mondo parigino. Indossa, infatti, due piccoli orecchini, un elegante abito nero, la cui ampia scollatura è incorniciata da merletti, ecco, tutto qui, tutto intorno, ed ha un bouquet di fiori al centro. Al collo ha un collarino con un nastro nero e un cammeo, e all'avambraccio destro un braccialetto dorato. Ecco, il braccialetto dorato lo possiamo vedere in questa immagine del quadro completo. Dando alla figura di Suzanne una forma piramidale, come appunto è chiaro, Manet vuole dirigere lo sguardo dell'osservatore sul viso della ragazza, che, al contrario della maliziosa divisa da lavoro, ha la grazia semplice di una ragazza di paese, quindi il viso ha questa grazia semplice. Non avvezza alla difficile vita che la grande città riserva a chi non appartiene al mondo che Suzanne vede davanti a sé tutte le sere. Il suo sguardo, malinconico e triste, sembra voler dialogare con l'osservatore, quindi con chi guarda il quadro, come a domandare aiuto, facendo calare il silenzio della riflessione in un luogo così festoso e chiassoso. Suzanne, infatti, è stanca e alienata. I suoi sogni di poter essere come le dame dell'alta società sedute ai tavolini delle folie berger sono svaniti, schiacciati dalla realtà di un lavoro che odia. In molti hanno ipotizzato che, oltre a fare la barista, Suzanne sia anche una prostituta. Questa teoria sarebbe supportata dalla presenza della fruttiera colma di arance, appunto arancia, frutto che Manet ha sempre associato con il mondo della prostituzione. Alle spalle della ragazza uno specchio riflette l'immagine del salone delle folie berger, portando quindi all'interno del dipinto quanto si trova all'esterno. Sulla destra qui osserviamo il dorso della ragazza, ecco questo è il particolare, e un elegante cliente con bastone, eccolo qui, e cappello a cilindro che sta ordinando da bere o che si sta accordando con lei in quanto prostituta. La posizione dell'uomo, e questo è molto importante, coincide con quella dell'osservatore del dipinto. E appunto questo particolare è molto importante in quanto la prospettiva offerta dallo specchio è stata considerata errata per decenni. La frontalità di Suzanne, infatti, se lo specchio fosse esattamente perpendicolare all'osservatore, ecco questa sua frontalità dovrebbe nascondere il suo stesso riflesso nello specchio, ma studi recenti hanno invece dimostrato che la prospettiva è coerente se si considera che il punto di vista dell'osservatore, quindi dell'osservatore del quadro, è lo stesso del cliente, che, benché posto di fronte alla barista, è angolato rispetto allo specchio. Sulla sinistra, qui, ma anche qui leggermente a destra e al centro, illuminato da grandi lampadari, Manet ci mostra il pubblico del locale, che vediamo qui in un dettaglio, e questo è il particolare appunto a sinistra. Questo pubblico è composto da uomini con eleganti cilindri neri e donne, alcune munite di binocolo, come per esempio questa signora qui in primo piano, che sono intente appunto a guardare lo spettacolo. Manet ci dà un'idea di che spettacolo si tratti, dipingendo qui in alto a sinistra parte delle gambe di un trapezista. Per dipingere il pubblico, come potete chiaramente osservare da questo particolare, Manet deposita sulla tela i colori senza cercare alcun effetto chiaroscurale, con una tecnica che è già quasi impressionista. In questo modo, quelle che, viste da vicino, sembrano soltanto disordinate macchie di colore, a una visione distanziata, acquistano un suggestivo effetto di realismo. Ecco, la visione più distanziata è appunto questa. Ricordiamo infatti che Manet è considerato il maggiore precursore dell'impressionismo. Bene, questo video termina qui. Spero vi sia utile. Ciao a tutti e alla prossima.